Le prepariamo tutte le partite, poi a volte fai schifo come abbiamo fatto a Montecatini, altre volte giochi un po' meglio come stasera. Quindi sì, devo dire bravi a tutti perché è una partita tosta con una squadra che è praticamente due anni che è prima in partita. L'anno scorso quest'anno ha cambiato molti giocatori e sono ancora là. Non dire che lavorano bene, Paolo Piazza ha fatto in due anni un gran lavoro perché se stai per due anni di fila, per un anno e mezzo prima in classifica, hai sicuramente dei grandi meriti. Noi abbiamo meritato sicuramente di venire questa partita, un grazie soprattutto al grande pubblico. Non sembrava una partita di Serie B, sinceramente era un pubblico di A2, di alto livello. Quindi grazie a tutti quelli che sono venuti a sostenerci perché non è scontato. Quindi li ringraziamo, ci danno sempre una grande carica. Venendo la partita, molto bene l'inizio, poi abbiamo avuto un blackout nei primi cinque minuti del secondo quarto. L'attacco abbiamo fatto fatica, abbiamo perso tre o quattro palloni e loro sono volati in contropiede. Li abbiamo richiuso bene. Andando all'intervallo avanti di 11, siamo stati bravi a gestire anche i loro quintetti molto fisici. E' anche atipici perché giocano con degli esterni molto grossi. Dovevamo stare attenti a non subire il post basso. Siamo stati bravi a non subirlo troppo. Siamo stati bravi a non concedergli troppi tiri facili da tre punti. Io che è una squadra che vive molto con le strisce di tiro. E poi abbiamo gestito il finale. Quindi bravi, bravi perché era una partita tosta. Bella da giocare. E l'abbiamo vinta e quindi siamo contenti. E l'abbiamo vinta e quindi siamo contenti. Grazie. 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 Grazie.